una amica chiama un'altra amica e gli fa chiara che c'è tesò che è successo dice no mi marito si è arrabbiato e urlando è uscito da casa e mi ha detto che vada una zoccola dice ottio mi dispiace tesò no te volevo chiedere ma sta lì da te